Il sottere ospiti completamente vuoto Tranne tre temerari che hanno parcheggiato la macchina lontanissimo Tre napoletani nel settore dell'Umezzane completamente vuoto Ultrasliberi E adesso ci apprestiamo a goderci la partita Tra Sorrento e l'Umezzane Gara di ritorno della Pool Scudetto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti